Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi, come sempre siamo qui per la rassegna stampa la rassegna stampa di Fano TV che inizia tutte le vostre giornate, sono le 7 e 30 un saluto anche a coloro che ci seguono nelle repliche intorno alle 9 e alle 13 e 30 come sempre guarderemo i quotidiani in edizione locale per oggi e però prima guardiamo anche il tempo e il santo del giorno il santo del giorno oggi sabato 11 aprile è Santo Stanislaovescovo il sole è sorto alle 6 e 32 e tramonterà alle 19 e 47 allora guardiamo la nostra postazione, che cosa ci dice la nostra postazione meteo insomma la temperatura è di 10 gradi poco più e vediamo la webcam che ci mostra un cielo bello terso e anche con un bel inizio di sole per questa giornata e allora confortati da questo andiamo a vedere le previsioni della protezione civile che ci dicono appunto che per oggi c'è un cielo sereno, poco nuvoloso con qualche velatura, nessuna precipitazione anche per domenica ci sarà un'intensificazione, un po' della nuvolosità parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata però ci sarà un rasserenamento nel pomeriggio qualche bassa probabilità, qui mettono di qualche isolato rovescio però nelle ore centrali della giornata ma prevalentemente come vedete anche dalla cartina nelle zone interne e sui rilievi nelle previsioni di lunedì invece anche qui di dascalie molto scarne cielo sereno, precipitazioni assenti e temperature in aumento e quindi espletata la formalità del tempo vediamo i giornali che cosa ci propongono iniziamo dal resto del Carlino e affronta il resto del Carlino nella pagina di Pesola la strage anche di Milano, al Tribunale di Milano a parlare sono anche i giudici di Pesaro i quali si sono fermati ieri mattina per 5 minuti e hanno ricordato il collega ucciso a Milano appunto e anche le altre vittime cadute sotto il fuoco di Claudio Giardiello e a prendere la parola è Elisabetta Morosini della sezione di Pesaro dell'Associazione Nazionale Magistrati che dice noi giudici additati e derisi è un amaro sfogo ricordando appunto quanto è avvenuto a Milano mini sospensione ieri delle udienze a Pesaro e il suo intervento appunto dice il cittadino non ci abbraccia siamo soli, ci sentiamo soli e poi anche qui un commento che dice ci sentiamo come quel giapponese che era stato ritrovato a diversi anni insomma dalla fine del conflitto mondiale che pensava che la guerra era ancora in corso e combatteva da solo appunto a guerra finita cambiamo completamente discorso nelle pagine di Pesaro si tratta anche delle secche del porto che insomma hanno forse per i portolotti, per i marinai altre cause allora vediamo il porto a secco per la terza volta barche spostate a mezzanotte nella parte terminale appunto ieri Mottina si poteva camminare addirittura sul fango e l'ipotesi è appunto questa ipotizzano anche l'effetto fango del vallato e vedete qui la situazione veramente incresciosa e questo proprietario di barca guarda laconicamente la secca che c'è sotto di lui marche molti servizi dice il vallato sfocia nel foglia solo in caso di piena dieci volte all'anno finisce nel porto ecco quindi insomma visioni diverse della questione pianeta sanità cambiamo argomento e anche i diabetici vogliono restare a Pesaro l'associazione di abetici è andata dal sindaco e dicono sbagliato trasferire tutto il servizio a Fano e anche la protesta dei dializzati che dicono vogliamo rimanere qui quindi un'ipotesi contro il Santa Croce il servizio va mantenuto siamo in 7000 si può utilizzare eventualmente anche il Galantara come opportunità pagine di Fano del resto del Carlino e l'apertura è per la vicenda dell'Artinox poi diventata King e con l'arresto per bancarotta fraudolenta dei vertici dell'azienda sono finiti in carcere quattro persone due indagate e altre quattro due agli arresti domiciliari e altre quattro indagate a parlare è chi l'ha vissuta dall'interno questa vicenda un ingegnere meccanico che racconta la sua esperienza appunto all'interno dell'azienda di Bellocchi come ha vissuto lui questo travaglio insomma perché sono rientrati dalle ferie in 70 e hanno trovato i cancelli chiusi tutto staccato e quindi insomma veramente momenti insomma di grande apprensione di grande paura e vediamo qui appunto i dipendenti della quella che è diventata la King poi davanti alla provincia di Pesone insieme al sindaco Massimo Seri per appunto perorare la loro causa ancora le scogliere le scogliere con l'approssimarsi appunto della stagione estiva ritorna questa questione sì alle scogliere il sindaco con l'assessore Paolini hanno avuto rassicurazioni la regione però pone le sue condizioni saranno alte un metro e mezzo cambiamo d'estata andiamo nel corriere adriatico e insomma c'è all'attenzione una vicenda che riguarda le forze di polizia in carico al commissariato di di Pesaro e di Urbino che saranno alcuni spostati in occasione di eventi nazionali come l'Expo come l'apertura e la visione della Sacra Sindone e allora a parlare è il segretario provinciale del SIULP Marco Lanzi che dice i presidi sono insicuri e c'è una nuova emorragia di agenti appunto verso queste manifestazioni e quindi denuncia tutta la sua preoccupazione e i presidi sono insicuri perché dice i sistemi di controllo sono inadeguati noi non sappiamo neanche che cosa sono i metal detector poi Stadio Benelli via alla ristrutturazione approvato dalla giunta il primo stralcio del progetto un investimento da un milione e mezzo di euro ancora dalle pagine del Corriere Adriatico però passiamo a quella che riguarda Fano e l'assunzione che ha creato polemiche in ambito ASET e quindi assunzione in ASET è diventato un caso politico il presidente nomina come portavoce una dirigente del PD e arriva l'out-out di Marcheggiani e lei si dimette dal partito una manifestazione a rischio quella dell'Affano dei Ceseri a rischio è la corsa delle bighe anche qui prima sì poi no poi vediamo è una questione che tornerà ancora in auge a rischio la Fano dei Ceseri naturalmente si fanno sempre i conti con il borsellino i fondi stanziati dal comune non bastano per la corsa alle bighe la romanità in costume e quindi vedete qui in questa foto sfogliare sfilare scusate sotto l'arco d'Augusto i figuranti in costume in costume romano cambiamo la testata andiamo all'ultima che prendiamo in visione quasi tutte tutte le mattine è il messaggero il messaggero di Pesaro che in testa appunto anche qui parla dei tagli alla sicurezza e la insomma la denuncia del Sjulp sindacato di polizia contro le precarie condizioni di lavoro degli agenti inaccettabili le inaccettabili le riduzioni di risorse in un momento in cui tanti fatti destano allarme e quindi il Sjulp denuncia i tagli minacciano la sicurezza e poi fotonotizia la VL che ha voglia di impresa e quindi vuole fare un match importante a Trento e poi i carabinieri di Gabice finalmente trovano casa problema risolto c'era incertezza sulla loro sede dove andavano dove non sarebbero andati ecco la nuova caserma sarà nella ex centrale dell'Enel vediamo anche qui i finanziamenti negati rischiano le ruspe in mezzo ai bagnanti si rischiano le ruspe in mezzo ai bagnanti si parla dei mancati finanziamenti per lo stato d'emergenza concessi alla regione Marche niente stato d'emergenza per il maltempo e i fondi per il ripascimento sono fermi in regione operatori amministratori il tempo stringe perché appunto i bagnini e quanti operano appunto sul fronte mare sono preoccupati perché dicono con appunto l'approssimarsi della bella stagione dobbiamo ripartire con i lavori siamo a quasi metà aprile a maggio insomma si riparte a pieno e quindi insomma c'è preoccupazione per questo settore così importante per la nostra economia essendo comuni rivieraschi ancora dalle pagine del messaggero la questione la vicenda della King così svuotano le aziende e si arricchivano l'indagine denominata appunto regno della guardia di finanza qui vedete i vertici in durante la conferenza stampa denunciano questa metodica criminale di acquisire delle aziende fare le cessioni di ramo d'azienda e poi svuotarle senza neanche versare un centesimo né nelle casse dello Stato né nei fondi destinati ai dipendenti ultima pagina del messaggero quella riguardante Fano come sempre la vicenda dell'Aset dell'assunzione dell'Aset anche qui portata in primo piano diventa bufera politica l'assunzione all'Aset di questa funzionaria del PD che scuota addirittura anche la maggioranza si tratta appunto di una del presidente del circolo che ora PD è dimissionaria è stata assunta con incarico fiduciario da Lucia Capodagli presidente dell'Aset anche qui le considerazioni di Marcheggiani nel mirino anche la presidente della Multiservizi e il segretario dei Democrat Marcheggiani prende le distanze da questa vicenda Sassonia e Baia Metauro così cambiano le scogliere resta il problema però anche degli scolmatori per la balneazione bene questa era l'ultima pagina che vi proponevamo per questa rassegna stampa di sabato grazie a per essere stati in nostra compagnia Occhio ai giornali torna lunedì mattina alle 7.30 e questa sera naturalmente 20.30 Occhio alla notizia buon sabato e buon weekend a tutti voi occhio ai occhio ai occhio ai occhio ai